Sì Ragazzi arriva subito l'acqua Pastorino con la stampella batte il primo rigore, Cimmo Non è finita Comunque vada se ti batte le partitorie No, no comunque vada Vediamo Vabbè questa è una lotteria Giocamo, a questa lotteria giochiamo Ci giochiamo alla lotteria Gran partita Grazie Hai d'onorato questo torneo al meglio Ci dobbiamo provare Allora Lele non tira quindi siete Ricontiamolo in po' se siete giusti Uno Sette e otto Perfetto Mi stai ripetendo a me Numero Numero Si segue sempre la stessa sequenza Cinque rigori e cinque rigori Poi si va a oltranza Tirano tutti Compresi il portiere E poi si ricomincia D'accordo? Mirko comunque vada complimenti Banna Borbandati Ma questa è una bella partita Si una bella partita Pagnaggia la Matosca Però Va bene ragazzi Dai Buon bene Comunque vada Bellissima partita Si spavano tutte le squadre Tosta 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 Tosti Ce la siamo maniata Mangiata Non è una riagrappata al inizio Andrei 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 che fate? è dura, è una nozzeria come l'Italia a Berlino vinciamo vinciamo oh come mai sono fatto due partite questa è la seconda, sto stancho la tiro, sono stanchissimo, non c'è troppo a pezzi speriamoci, speriamo, ci proviamo il primo lo tiro io vincete il pastorino, lo dite il pastorino, lo dico io vincete il pastorino che ne so, se lo sapevo tu che dici? Luisa vincu tic Sette. Valle, non ti girà, valle, guarda sta qua. Valle, la palla, valle. Valle, la palla, valle. Sì. Ah, non ci vede. Valle, la palla, valle. 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 Un Grazie! Grazie! Buonasera, siamo con tutta la Pro Vercelli che quest'oggi si aggiudica un posto in semifinale battendo i campioni in carica. Un'impresa, anche se si tratta di un'ottima squadra, la vostra, però incontravate forse la migliore compagine del torneo negli ultimi anni. Valerio, tu che hai chiuso la porta, migliore in campo, a detta di tanti, quindi ti faccio i complimenti a nome dello staff e a nome di tutta la gente che è da qua, perché ha visto numerose parate da parte tua, ma di giocate dei tuoi compagni che hanno messo in difficoltà i campioni in carica. Come hai visto la partita? Sapevamo che c'eravamo di fronte ai migliori, ci siamo giocati fino alla fine, c'eravamo avuto un match ball con un tiro libero, però la stanchezza era tanta e poi i rigori, sono stati fortunati perché è buona lotteria. Però complimenti a loro perché sicuramente nei prossimi anni ne vinceranno tanti. I complimenti ce li facciamo anche noi a loro perché dopo aver vinto due venti anni, perdere i rigori contro di voi, ci può stare dai, ci può stare. Adesso passo un attimo la parola al presidente in seconda che ci presenta, un altro presidente. La piccola mascotte della squadra, mio fratello e terzo presidente. Insomma Matteo, questa Provercelli ti ha dato tutte queste soddisfazioni fino a questo punto, battendo i campioni in carica addirittura. Se vinceremo il mondiale almeno una promessa la devi fare. La promessa è già stata fatta la settimana scorsa, quindi sicuramente se vinceranno questo mondiale festeggeremo tutti insieme. Allora, noi auguriamo alla Provercelli di vincere questo mondiale, però vorrei far dire anche il tuo fratello che si chiama. Lorenzo, 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 che ci vuoi dire? Forza? Provercelli, Provercelli. Forza Roma! Forza Provercelli, ragazzi, bocca al lupo per queste prossime partite che dovrete disputare e ci vediamo la settimana prossima. Grazie.